we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi settimana numero 3 di fortnite per questa season 9 vuol dire stella segreta quindi nel video di oggi andremo a vedere la posizione esatta come vedete se ancora non lo sapevate ecco la schermata di caricamento relativa appunto alla settimana numero 3 e come sappiamo c'è sempre nascosta la posizione ve l'ho cerchiata ragazzi forse è meglio che ve la faccio vedere un po più ingrandita come vedete la stellina segreta è proprio sopra questo cumulo di macchine e guarda caso l'immagine disegnata nel muro è esattamente in questo punto come vedete siamo all'esterno di crocevia del ciarpame dove c'è il cestino ci sono queste macchine che sono esattamente identiche al disegno la stella dovrebbe trovarsi proprio là in alto di fianco al cest io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao